Buonasera ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio della serie I Viaggiatori Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Questo è un altro, uno come Arcanthos Ciao a tutti ragazzi, tutto bene? Senti, a me offenderò, a me di offenderò, mi prendo collera Ti prendi collera? Comunque la ragazza eravamo rimasti che io stavo... Stavo a morir, stava? No, stavo in un bel posto con i diamanti, bello Bello, eh? Se vieni sopra ti do 5 euro perché dobbiamo dormire, se no si spawnano di nuovo i mostri, è un casino No ma se tu decidi di venire Comunque ragazzi io qui ho trovato... Allora, la Pografli, la P-Inutica, ha fatto cos'altro, però... Dettagli Poi ho trovato 4 diamanti, 39 di carbone, lingotti di ferro e ferrocrito Sei un pro guarda Ti chiamavano Alvis il pro Allora comunque tutto questo ragazzo Sinceramente voglio finire Ah giustamente in questo episodio Tornando a noi la parte seria Ora tornerò a Valerio il serio Come dicevo In questo episodio Noi cercheremo di finire il più presto possibile L'agricoltura E cerchiamo anche di finire Il più velocemente possibile Perché se no non finiamo possibilmente Che cazzo sto dicendo Non lo so manco io Quindi fate finta che non sto dicendo niente Comunque tornando a noi Ho fatto un guaio Ho fatto un altro guaio Allora Ora farò il serio Abbiamo sistemato le cose quindi facciamo i seri Dicevo Ora noi finiremo Questo Questa Io mi ero perso Ah ti sei perso Bravo Ma sei un genio Eugenio? Dove sei? Ora andremo anche a riprendere il povero Alvis Che è sperduto nella grande grotta È sperduto nella grande grotta di Gesù? No no Sono uscito Dimmi le coordinate Che stanno in giro Ah devo dirti le coordinate Allora X635 X635 Z465 Se ti interessa Comunque come dicevo Ritorno a parlare seriamente In questo episodio In questo episodio noi cercheremo di finire Comunque completare questo campo di agricoltura Così finiamo il primo obiettivo So che Molti si chiederanno Ma esiste anche l'agricoltura di Esiste Ok Valerio devi fare il serio Perché noi stiamo registrando Se dobbiamo registrare Dobbiamo fare i seri Lo capisci? Devi fare il serio Allora Ritornando a noi che siamo persone serie Dicevo Molti si chiederanno Guarda ma esiste anche la zucca e l'anguria Sì questo lo so Però Diciamo Quelle là non voglio valutarle Come agricoltura Cioè Non ci servono In questo momento Quindi noi completeremo Queste tre E di là dobbiamo Oh mio dio uno zombie Ciao Dicevo Completeremo comunque questa zona E poi dobbiamo fare Comunque lì la canna da zucchero Vicino al mare Che viene molto più figo C'è uno zombie che sta venendo verso di me Però cosa vuole da me? Però se vuoi Cioè tu mi fai venire Allora imbacio Valedetto Ah si scusami Allora In questo episodio comunque Completeremo questo Finiremo casa Cercheremo di finire casa E nel prossimo episodio Andremo Dove Alvis Oh Nio di zombie che stanno arrivando In questa Dormiamo prima che ne vengono altri cento Vai dormi Io mi son messo nel lettuccio Ma sei scemo due volte? No Mi c'ho buggato Hai visto? È bruttissimo buggarsi No ora dormo da solo Allora mettiamo il letto Dobbiamo prendere l'altro letto Aspetta un attimo Questa sostituzione di letti Improvvisa Ma va bene Vabbè dai Dobbiamo completare un attimo Questo campo Di agricoltura E Finiamo la casa Cioè tu completa la casa Così ci Ne abbiamo davanti Questi due obiettivi Che sono comunque Un po' fastidiosi e lunghi E senza fare clip speed Visto che oggi Siamo vicino a Natale Siamo dolci Gentili Cerchiamo di fare le cose con calma Ma noi ce l'abbiamo La linea di que Anzi Sì ce l'abbiamo Ce l'abbiamo tutto noi intorno a noi Ma ci dobbiamo farci una cassa Bella perché devo mettere La cassa? La roba No devo mettere la roba Di Pasquale Ah Roba di Pasquale Che poi dobbiamo fare gli obiettivi Con quella roba Questa è una cosa divertente Che è molto divertente Perché noi dobbiamo completare ancora Obiettivi Cioè uno l'abbiamo completato Già sapete quale Però oggi No no Loro vogliono sapere quale Come quale? Esplorare i villaggi È deficiente Ah Oh io c'ho le zucche Tu sei una zucca Non capisco Tengo il zucco Volgare Una persona molto volgare Questo ragazzo Zero rispetto Verso gli adulti E lui un moccioso Bambino Ok no Comunque non prendere il vetro Che devo completare lì Cioè No no So De che del De che del Sì vabbè ma tu completa il tetto della casa Che è quasi finita Spero che stai facendo bene la casa E non mi dirà di nuovo No guarda Non mi piace Perché Fare una brutta fine No ma la casa non è finita così Lo so che non è finita Ma almeno completa la prima parte Ho sbagliato È troppo Sì ma io voglio Anzi ora faremo una bella cosa Ma facciamo una bella cosa Ragazzi E voi con me Gusterete l'ansia di aspettare Che la sabbia si cuocia Però facciamo qualcosa di divertente Aspettate ora andiamo a raccogliere un po' di sabbia Non è divertente raccogliere Sì invece che è divertente La gente piace Raccogliamo 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 Si è rotto la pala Bravo Di sicuro ci servirà un sacco di sabbia Quindi noi cerchiamo di prendere il più possibile Perché comunque dobbiamo completare questo obiettivo che mi ha stancato davvero Sono due o tre episodi che mi sta davanti alle palle Va bene voglio essere volgare Le palle E mi fa venire ansia Rispira Conta fino a dieci se sei contare ovviamente Tre Due Quattro Sette Sosti di acqua Sosti di acqua Vai più a terra Poi dopo Tralasciando queste cose per So che Stai facendo la sabbia Non ti preoccupare Te la sto rimanendo a te Ma sei idiota o cosa? Cosa? Una scimmia più intelligente di questo essere umano Chiamato Alvis E non c'è i peli Allora In questo episodio Comunque ragazzi in questa casa In questo episodio della casa è finito Cioè il primo piano è finito Il primo piano perché poi devi fare altri 50 Devi ammirare l'ultimo blocco Vieni Vieni Valerio Allora ora tu stai zitto Io guardo come si cuocerà tutta la sabbia Ti stai fermo? Ammira Come si cuocerà tutta la sabbia Ora guarderemo come Hai rotto il cazzo Guardiamo come Ammira tutto il blocco Eh ok bravo Stai cuocendo la sabbia Ora guardiamo tutti come si cuoce la sabbia Tutti e 36 blocchi Ora voi aspetterete come si cuoceranno questi 36 blocchi Gesù bambino Tu canti questa canzone Ti piace ballare insieme Ti piace cuocere la sabbia Cuociamo 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 La sabbia dobbiamo cuocerla Ci manca un altro po' 34 cubi Se Alvis continua a prendere la sabbia Io ora lo banno da server E non farò più i viaggiatori La sabbia si cuoce con calma La sabbia si Eh Eh Forse coglione Ah Ah No Grazie a tutti 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 Grazie a tutti